Viva! Un'altra volta, grazie. Grazie. Mi ha promesso perché non sapeva così deve andare la cosa, però sono sicuro che il fatto che faccio con il mio bene, così mi danno permesso forse molto più forte di un permesso di soggiorno. Sono molto contento perché un uomo saggio, come Maroni, può ragionare bene proprio il fatto della musica perché si dice che chi canta non pensa male e noi vogliamo tutti in Italia che respirano l'aria italiana cantare, ballare e suonare. Il mio merito aveva i suoi risultati. Viene la parola che ho detto già, seminateci bene, daremo anche noi il nostro frutto. Io sono adesso seminato bene e penso che darò un grande frutto a questo paese di dove sono ospite. Grazie. Grazie.